Gentili telespettatori buona giornata rassegna stampa di oggi lunedì 29 luglio 2024 Corriere della Sera, raid in Libano alta tensione e poi vediamo figli donazioni ed eredità c'è una strada per evitare guai e poi vediamo Meloni intese con la Cina e va contro l'informazione cosa ha fatto la Meloni ha scritto alla Wonderlion dicendo che sono notizie false il governo non non controlla la RAI non interferisce nella RAI che praticamente la RAI è un'azienda liberissima dove c'è un'informazione libera poi ci sarà un video sul canale anche su questo Conte Grillo fine partita il duello nel Movimento 5 Stelle e poi capolista l'idea di Toti andiamo a vedere adesso la Repubblica che titola in prima pagina puniremo Hezbollah Erdogan minaccia l'invasione di Israele la replica finirai come Saddam Meloni a Ursula contro di noi solo notizie notizie false e poi andiamo a vedere adesso la stampa che titola oggi raid di Israele Libano sotto attacco e poi Beirut tremano a un'altra guerra Meloni a Pechino piano auto elettrica e scrive a Ursula su di noi solo notizie false come vi dicevo prima e poi se la Premier prova a uscire dall'angolo il commento e il sondaggio l'inflazione spaventa un italiano su due andiamo adesso a vedere il resto del Carlino il resto del Carlino che oggi titola Israele pronto contro il Libano Tel Aviv vuole colpire Hezbollah dopo i fatti di ieri gli Stati Uniti no l'analista la regia iraniana la farnesina gli italiani lasciate la regione il ministro Crosetto della difesa l'ONU cambi le regole d'ingaggio dei nostri nel paese poi arriva dal nuoto il primo titolo e Martinenghi figlio di un orafo senna inquinata stop alle prove di triathlon l'ira degli atleti il ragazzo d'oro scrive il resto del Carlino e poi nessun rischio di voto anticipato il governo dura intervista al vice premier Tajani e poi Meloni va in Cina un piano dopo la via della seta oggi l'incontro con Xi Jinping e andiamo adesso a vedere il fatto quotidiano il fatto quotidiano che oggi in prima pagina ci dice che Meloni scrive a Ursula io non lottizzo la RAI e prepara le nomine e poi Movimento 5 Stelle assise il 4 ottobre Patuanelli dice Agrillo non decide uno solo gli stati generali il numero uno al senato sulle polemiche garante conte e poi Bibi subito vendetta e poi il fatto economico Amazon e company un impero tra evasione e caporalato. Andiamo poi a vedere il messaggero che titola oggi Meloni in Cina apertura ai big dell'auto elettrica e poi la lettera di Giorgia von der Leyen notizie false contro il mio governo e il mea culpa mondiale della Francia non volevamo offendere nessuno. Libano piano per gli italiani rischio escalation pronta all'evacuazione in 48 ore per 1200 militari schierati al confine la difesa all'ONU la missione prosegue ma servono altre regole giochi primo sigillo argento e bronzo nella pistola scherma box e ju box coni contro gli arbitri quindi martinenghi rana d'oro. Andiamo adesso a vedere la verità che oggi in prima pagina l'Italia copia la Francia fuori le auto dalla città la chiamano mobilità dolce come a Parigi Milano all'avanguardia nell'importare il green e i modelli antidemocratici punta a far scuola nonostante il flop dell'elettrico vuole far pagare di più la sosta ai SUV e si prepara a bandire i parcheggi da intere vie. E poi vediamo botte risposta alle mie parole per amare non serve Dio ma è Dio che ci aiuta da amare se la fede necessaria allora la cei riveda la comunicazione. Meloni in Cina cammina lungo la via dei mercanti il premier incontra il suo omologo accordi commerciali su istruzione e agroalimentare dossier bollette sulle batterie. E poi vediamo la cartolina caro Mattarella supereroe un po' troppo a intermittenza. Andiamo adesso a vedere il giornale che titola oggi Meloni si ribella al report anti Italia accuse di svolta illiberale dura lettera della premiera Ursula sono notizie false ad uso politico. Prima vittoria degli azzurri martinenghi oro nei cento rana e la Cina torna vicina ma con nuove regole missione del governo a Pechino. E adesso andiamo a vedere libero quotidiano che in prima pagina figuracce ai giochi ultimo fango a Parigi Senna inquinata, inni sbagliati, atleti in fuga dal villaggio olimpico e i palinsesti che rifiutano di salutare gli israeliani e il disastro di Macron. E poi vediamo l'ex guru del PD De Clino Santori da capo Sardina a milite innocuo. E poi dall'Europa mistificazioni per colpire il governo. Meloni scrive a von der Leyen per il rapporto sulla libertà di informazione dicendo alla von der Leyen che la RAI è una televisione di stato assolutamente libera. E poi Crosetto striglia l'ONU sui soldati in Libano, legole d'ingaggio sbagliato. Intervista il capogruppo Silvestri, nessuno esclude Grillo ma Cinque Stelle deve cambiare il partito. Andiamo a vedere adesso il tempo che è quello di oggi. Dice Gran Pesto alla Manettara e si parla sempre di Toti, la Liguria. Meloni si avvicina un piano d'azione, oggi l'incontro, la Premier von der Leyen, libertà di informazione, notizie false anti-governo. E poi sì al doppio mandato, così Conte punta a isolare Grillo. E poi Toti scaricato dai giustizialisti bipartisan. Grazie a tutti e arrivederci a presto.